Il popolare attore Gigi Proietti Il premier Conte punta a stabilire zone rosse in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall'indice RT. Divieto di uscire di casa per gli anziani over 70, anticipare il coprifuoco alle 18, gli altri due punti di contrasto al momento non c'è l'intesa. In lieve calo il numero dei contagi, quasi 30.000 nelle ultime 24 ore, anche se a fronte di 30.000 tamponi, in meno una curva dei nuovi positivi che però è ancora in crescita. La percentuale nazionale del rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati ieri è salita al 16,3%, in aumento anche ai ricoveri ospedalieri e le terapie intensive. Campagna elettorale per le presidenziali americane. Agli sgoccioli domani si vota del rush finale di comizi per i due candidati alla Casa Bianca. I sondaggi danno sempre in vantaggio Joe Biden su Donald Trump, ma il presidente uscente è convinto di poter recuperare terreno sul rivale democratico e si dice pronto a dare battaglia legale, anche dopo il 3 novembre, quando dovranno essere contati anche i milioni di voti espressi per posta. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Lo avete sentito, si è spento alle prime luci di questa mattina, Gigi Proietti. Ne parleremo tra poco. Intanto affrontiamo la questione all'ordine del giorno, che è quella che riguarda il nuovo DPCM, perché al momento non c'è un'intesa tra le regioni e il governo su come proseguire. Le regioni vorrebbero dei provvedimenti a livello nazionale, mentre il Premier Conte è convinto che si debba agire più a livello locale. Vediamo allora nel dettaglio quali potrebbero essere i provvedimenti adottati nelle prossime ore. Sul lockdown si misura il braccio di ferro fra regioni e governo. Le misure vanno da uno stop alle attività commerciali e alla proposta più dura di alcuni governatori, come Michele Emiliano e Stefano Bonaccini, di vietare la circolazione. Sul tavolo anche un freno agli spostamenti fra le regioni, la chiusura dei centri commerciali nei weekend e limitazioni per le persone che hanno più di 70 anni, le più esposte al contagio. Ma si lavora anche ad un coprifuoco alle 21 per tutti. Le regioni vorrebbero che venissero stabilite restrizioni di carattere nazionale, anche nel caso in cui si dovesse optare per un nuovo lockdown generale. Lavoriamo insieme alle regioni e il ragionamento nel governo, ma non possono sottrarsi alle evidenze scientifiche. Una riflessione che la Ministra per l'Agricoltura, Teresa Bellanova, riassume così. A indici di rischio, differenti, devono corrispondere misure diverse. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Il vice segretario del PD, Andrea Orlando, ha preso di mira i governatori di centrodestra. Sono federalisti quando le cose migliorano, centralisti quando peggiorano. Il nuovo DPCM è stato al centro di una serie di vertici, uno via l'altro. Fra regioni, comuni, province e governo prima, e fra conte e i capi delegazioni, e infine fra conte e i capi gruppo. Non è finita. Prima che Conte vada a riferire alla Camera alle 12 e in seguito al Senato alle 17, ci sarà un nuovo incontro fra i Ministri dell'Autonomia Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza con gli enti territoriali, mentre la proposta fatta dal Presidente del Consiglio all'opposizione per una cabina di regia permanente è stata rifiutata. Troppo tardi, dicono dal centrodestra. Sul fronte dell'epidemia i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono scesi sotto quota 30.000, ma a fronte di meno tamponi. Comunque l'epidemia continua a correre. Ci sono delle regioni che sono in grave difficoltà in prima linea, tra queste la Lombardia, il Piemonte e la Campania. Per quanto riguarda, nello specifico Torino, è stato chiesto proprio dai medici un lockdown per evitare che la situazione nelle strutture sanitarie possa precipitare. Vediamo. Continua ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere. In base agli ultimi dati, quelli di ieri, in 24 ore, si sono registrati quasi 100 pazienti in più nelle terapie intensive. In tutto adesso sono quasi 2.000. I ricoveri nei reparti Covid segnano un più 936. Ed ora in tutto il paese ci sono quasi 19.000 adegenti positivi al virus. Il calo dei nuovi contagi non può rassicurare, perché come ogni fine settimana si fanno meno tamponi. E così si sono contati oltre 1.800 casi in meno rispetto al giorno prima. La cifra esatta è 29.907 nuovi positivi, a fronte di un calo di 32.000 test, con una lieve diminuzione delle vittime, 208. Ma c'è un numero che può svelare quanto la curva sia ancora in crescita. Una curva terrificante, l'ha definita il Ministro della Salute, ed è la percentuale nazionale del rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Ieri è salita al 16,3%, mai così alta. Sabato era al 14,7%. Con picchi oltre il 20% in Lombardia, che resta la regione più colpita, con oltre 8.600 nuovi contagi. Altissimo il numero anche della Campania, che ha superato i 3.800 e si prepara ad allestire sei ospedali da campo militari. La Toscana sta oltre i 2.300 positivi in 24 ore, poco più del Lazio, dove continua la corsa per riconvertire i reparti ordinari ai reparti Covid. Si tenta anche di potenziare l'assistenza domiciliare, perché ormai da mesi è uno dei territori con il più alto tasso di ospedalizzazione dei pazienti, nonostante i numeri più bassi dei contagi rispetto ad altre regioni. Da segnalare anche la Sicilia, dove per la prima volta i nuovi positivi sono più di mille e quasi mille sono anche ricoverati, oltre ai 130 in rianimazione. In terapia intensiva era stato ricoverato ieri Gigi Proietti per un grave scompenso cardiaco, era in una clinica romana, dove si trovava da qualche giorno per degli accertamenti. Si è spento nella notte. Se ne è andato nella notte per uno scompenso cardiaco proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Eclettico, ironico, carismatico, grande mattatore della scena artistica italiana, Gigi Proietti ha calcato per oltre 55 anni i palcoscenici di tutta Italia. È in teatro, infatti, che raggiunse la notorietà negli anni 70, quando venne chiamato a sostituire Domenico Mudugno nella commedia musicale Alleluia, brava gente. Negli stessi anni arrivano anche i ruoli da protagonista nel cinema, dove venne iniziato a muovere i primi passi da giovanissimo con piccole comparsate. Ruoli che spaziano dalla commedia al dramma, dai personaggi più impegnati a quelli più brillanti e che l'artista romano ha interpretato con incredibile disinvoltura. In Italia è stato diretto dai registi del calibro di Bolognini, Monicelli, Petri, Magni. In America ha lavorato con Altman e Lumet. La sua grande occasione cinematografica è arrivata nel 1976 con febbre da cavallo di Steno, dove Proietti veste i panni di Mandrake, sfortunato scommettitore di cavalli, ormai un colt nel cinema italiano. Attore, regista, cantante, doppiatore, intrattenitore, sopraffino, Proietti ha lavorato anche in radio e in tv, dove negli anni 90 raggiunse un grande successo di pubblico con la serie Il Maresciallo Rocca, che nel 1996 gli valse il premio come personaggio maschile dell'anno. Il nome di Proietti è legato indissolubilmente anche al Teatro Brancaccio di Roma, di cui fu direttore artistico. Lì creò il suo laboratorio teatrale, dedicato ai giovani attori, che poi hanno conquistato il cuore del pubblico, proprio come fece lui, con a me gli occhi, please, mettendo in scena anche Shakespeare al Globe Theatre di Roma, altro teatro che ha avuto la fortuna di crescere sotto la sua direzione artistica. E torniamo alle questioni legate al Covid, perché gli anziani sono stati al centro di un tweet che è stato pubblicato sul profilo Twitter del governatore Toti, ieri, che ha creato molte polemiche. Lui poi si è scusato. In un'intervista oggi al Corriere della Sera ribadisce che il concetto era quello che le persone più fragili vanno comunque protette, però le polemiche comunque sono scoppiate. E bufera dentro e fuori social su un post del governatore della Liguria, Giovanni Toti. Un post scritto ieri e immediatamente rettificato dal suo autore, ma che ha l'aggravante di arrivare nel momento in cui i regioni e il governo si confrontano sugli interventi del prossimo DPCM, che prevede anche misure di protezione per gli anziani. Scrive Toti su Twitter che per quanto addolori ogni singola vittima del Covid-19 bisogna tenere conto del fatto che gli ultimi 25 decessi della Liguria 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate. Quella frase, non indispensabili per lo sforzo produttivo del Paese, fa infuriare utenti ed esponenti politici. Dopo qualche minuto arriva la rettifica, il senso di quel tweet è stato travisato, scrive Toti, appartiene a un ragionamento più ampio. Toti si schiera subito dalla parte degli anziani. Volevo dire che sono i più colpiti e che possono restare a casa per essere protetti, chiede scusa per le offese di quel tweet, che definisce involontarie e lontanissime del suo pensiero. A quella frase, estrapolata da un concetto più ampio, non si fanno attendere le reazioni. Spero si sia espresso male, ha detto da Firenze il sindaco Nardella. Si dice incredulo anche l'immunologo Roberto Burioni. Stavolta si è raggiunto il livello più basso del dibattito sulla pandemia, dice dall'opposizione il vice segretario del PD, Andrea Orlando. I pensionati del CGL dicono che sarà lui, Toti, a non essere indispensabile. La CISL spera in un errore in buona fede, ma Toti si scusi, dicono, e il governatore lo fa. Chieda perdono agli anziani, ribattono i 5 Stelle. Toti, infine, spiega di avere un padre 80enne che esce l'indispensabile e fa bene. E un appello all'unità, un invito ad abbandonare partigianerie, protagonismi ed egoismi viene dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il capo dello Stato, con una visita a sorpresa. Ieri ha deposto una corona di fiori nel cimitero di Castegnato, nel Bresciano, un piccolo comune colpito duramente dal coronavirus, dove molte persone morirono in solitudine nei mesi più bui della pandemia, senza il conforto dei cari, come ricorda la Lapide, un luogo simbolo quindi dell'Italia che ha sofferto di più e offeso da un furto. A settembre è stata rubata la croce di bronzo posta in memoria dei caduti per il Covid, da Castegnato quindi l'invito del Presidente della Repubblica all'impegno comune per difendere la salute delle persone e assicurare la ripresa del Paese. E intanto l'Europa intera ormai è l'epicentro della nuova ondata di epidemia. Da coronavirus un po' ovunque gli stati corrono a ripari, tornano a lockdown con una linea comune che è quella di cercare di tenere aperte le scuole. Non mancano naturalmente le polemiche come in Gran Bretagna dove si è appreso che William era positivo ad aprile ma non disse nulla. Annunciatove nel discorso per la durata di almeno un mese il lockdown in Gran Bretagna scatterà giovedì ma potrebbe essere esteso. La situazione è già peggiore di quanto ci si aspettasse ha spiegato ieri un portavoce del governo di fatto il Regno Unito. È il Paese con il maggior numero di decessi legati al virus in Europa. Oltre 46 mila. In ogni caso per ora le scuole e gli atenei resteranno aperti come in Francia ad eccezione però delle università. Ieri il primo ministro Castex ha annunciato che i supermercati potranno vendere solo i beni di prima necessità accogliendo così le richieste dei piccoli esercenti costretti alla chiusura che protestavano contro la concorrenza della grande distribuzione. Come oltremanica la stretta prevede il fermo di tutte le attività non essenziali dagli alberghi ai bar ai ristoranti fino a parrucchieri e centri estetici. In Germania è stato calcolato che le restrizioni sulle attività economiche faranno perdere un punto al prodotto interno lordo tedesco con quasi 600.000 posti di lavoro in meno stime riferite tra l'altro solo ad un eventuale mese di chiusura. Continua a crescere invece in Spagna la tensione sociale e le misure decise dal governo sono contestate violentemente da centinaia di persone che nel fine settimana hanno manifestato a Madrid e in altre città numerosi di scontri con le forze dell'ordine 32 le persone arrestate nella capitale. Andiamo adesso negli Stati Uniti per il rush finale di campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali di domani per la verità già oltre 93 milioni di americani hanno votato per posta un voto per posta che potrebbe in questa situazione ritardare l'esito finale diciamo della elezione il risultato finale potrebbe arrivare un po' più in là nei giorni per gli ultimi conteggi. Comunque sta di fatto che Biden è ancora in vantaggio anche se starebbe perdendo terreno in alcuni stati chiave ed è per questo che Trump spinge sull'acceleratore con gli ultimi comizi. Dieci comizi in due giorni per Trump il presidente non ha nessuna intenzione di arrendersi combatterà fino all'ultimo prima del voto e a quanto pare continuerà a combattere anche dopo l'Election Day la Florida conclude il primo tour de force che ricomincerà tra poche ore del resto il vantaggio nazionale di Biden che continua a essere consistente come Trump sa benissimo e come l'elezione del 2016 insegna potrebbe non bastare a conquistare la Casa Bianca se l'ex vice di Obama dovesse fallire in qualcuno degli stati decisivi ma come dicevamo in ogni caso Trump è già pronto a continuare la sua battaglia anche dopo il 3 novembre quando dovranno essere contati anche i milioni di voti espressi per posta mai così tanti come quest'anno il Presidente sa che su questo fronte è a rischio perché è un sistema preferito dagli elettori democratici ed è già all'attacco la Corte Suprema ha permesso che i voti siano contati anche se arrivano giorni dopo è una follia dovremmo sapere come è andata subito la strategia di Trump secondo fonti della stampa americana sarebbe pronta a dichiarare vittoria alla notte elettorale e poi contestare ferocemente tutto quel che verrà dopo facendo appello ai suoi sostenitori una strategia suicida per l'America perché rischierebbe di scatenare tensioni interne incontrollabili un assaggio si è visto in questo video sostenitori di Trump che circondano minacciosamente in Texas un pullman della campagna di Biden il candidato democratico ha condannato sdegnato l'accaduto l'FBI ha aperto un'inchiesta e Trump invece ha twittato I love Texas sullo sfondo sullo sfondo della campagna elettorale poi si agita la pandemia che sembra senza freno 99.000 nuovi casi registrati sabato scorso il virologo in capo della task force anti-covid Anthony Fauci ha lanciato l'ennesimo allarme andiamo verso l'inverno sotto i peggiori auspici e ha aggiunto Biden mi sembra interessato al tema Trump pensa più all'economia il presidente lo ha accusato di invasione di campo nella politica e ha continuato indisturbato con i suoi comizi senza precauzioni un uomo d'immagine come lui sa benissimo che lo sfondo di una massa in festa è quel che ci vuole per galvanizzare gli ultimi indecisi e ora lo sport con il calcio il Milan continua nella sua marcia e porta a due punti il suo vantaggio nei confronti del Sassuolo ad illuminare le partite di ieri le prodezze di Ibrahimovic e di Cristiano Ronaldo vediamo guarda tutti dall'alto ed è deciso ad andare in fuga il Milan di Stefano Pioli il tecnico rossonero preferisce per adesso non dare un'occhiata alle statistiche numeri che associano la sua squadra cinque vittorie nei primi sei turni del campionato a quelle portate allo scudetto in passato da Capello e da Ancelotti e se sognare a questo punto dopo il 2-1 in casa dell'Udinese non è più vietato la spiegazione in buona parte nella terza giovinezza di quel Highlander di Zlatan Ibrahimovic domani per lui saranno 39 anni ed un mese ma il suo stato di grazia continua la leadership nella classifica marcatoria è il giusto premio per un campione in grado di essere sempre e comunque decisivo i punti di ritardo dalla capolista sono 4 ma dalla Juventus ci si attendeva una risposta dopo una settimana complicata non l'ha fornita certo Di Bala apparsa decisamente spento al contrario di Cristiano Ronaldo proprio lui che lo ha sostituito contro lo Spezia a rientro dopo oltre un mese il fuoriclasse portoghese non ha fatto sconti con lui la Juve ha operato lo scatto decisivo sino al 4-1 finale Pirlo ha detto di una squadra ancora al 60-70% ma sicuramente il ritorno di CR7 è una gran bella notizia eppure a scorrere la classifica la seconda forza del torneo è il Sassuolo grazie al successo 2-0 in casa del Napoli tre punti che hanno ancora più valore se si considera che la squadra emiliana aveva dovuto rinunciare a Berardi Iuricic e Caputo procedono a suon di vittoria le due romane anche se i loro due successi non potrebbero essere più diversi la Lazio al termine di una settimana complicata ha confermato in casa del Torino i suoi grandi pregi il fatto di carattere e mentalità senza queste doti non sarebbe possibile ribaltare una sfida che l'87esimo era persa 4-3 per i biancocelesti il risultato con Caiceda ancora una volta a suo agio nel ruolo di uomo decisivo nei minuti finali il successo della Roma sulla Fiorentina invece non è mai stato in dubbio in gol Spinazzola e Pedro ma troppe le occasioni fallite dagli uomini di Fonseca la Sampdoria archivia il derby terminato 1-1 con qualche rimpianto in caso di vittoria avrebbero raggiunto Juve d'Atalanta in terza posizione questa sera 20-45 l'ultima partita della sesta giornata Verona Benevento per la Formula 1 invece la Mercedes conquista ad Imola il suo settimo titolo costruttori ma sul futuro di Hamilton non ci sono certezze non esistono oramai più aggettivi per definire lo strapotere Mercedes e suona un beffardo come il settimo titolo consecutivo costruttori della casa tedesca si è giunto proprio sulla pista intitolata Denzo Ferrari è stato neanche a dirlo Louis Hamilton infilando la 93esima vittoria in carriera ad avere la meglio sul compagno di Scuderia Bottas che gli aveva strappato la pole l'inglese si è ripreso tutto con gli interessi ma anche con una buona dose di fortuna dal momento che il sorpasso decisivo sul finlandese è giunto non in pista ma grazie al cambio come anticipato da Hamilton in regime di safety car non altrettanto fortunato Bottas che dal secondo giro ha dovuto correre con un detrito sotto la scocca della sua monoposto inevitabilmente appesantita intanto alle spalle della coppia Mercedes accadeva di tutto iniziando dai problemi idraulici all'alfatauri del francese Gasly costretto a ritiro mentre Charles Leclerc cercava di difendere con i denti la sua posizione sempre a ridosso del podio sfortunato stavolta Sebastian Vettel grazie al disastro dei meccanici Ferrari al momento del cambio gomme una foratura invece impedito a un ottimo Max Verstappen di conquistare la piazza d'onore a tutto vantaggio di Bottas e dopo l'ultimo ingresso della safety car Leclerc che sembrava avere nel mirino Daniel Ricciardo e il suo terzo posto si faceva invece inghiottire dall'altra alfatauri di Daniel Kwiat a testimonianza della perdurante lentezza delle rosse il Monegasco chiudeva così al quinto posto con Vettel dodicesimo grazie a questo successo invece Lewis Hamilton porta 87 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Bottas ma qualcosa in Mercedes sta accadendo dopo l'annunciato ritiro da team principal di Toto Wolf ieri Lewis Hamilton ha lasciato intravedere la possibilità di dare l'addio alla casa tedesca e addirittura alla Formula 1 ed è tutto per questa edizione il telegiornale torna alle 13.30 ora le informazioni sul traffico con Camilla Adelaia poi a seguire il meteo di Paolo Sottocorona e il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni vi auguro una buona giornata grazie